Il centro vaccinale di Lario Fiera d'Erba chiuderà il prossimo 29 marzo, lo ha annunciato oggi il direttore sanitario dell'ATS in Subria, Giuseppe Catanoso. Il numero di vaccinazioni è in continuo calo e l'indicazione regionale di coinvolgere maggiormente farmaci e medici di medicina generale, ha spiegato Catanoso. L'Hub per la campagna di massa terminerà l'attività a fine mese. Valuteremo poi la situazione in autunno, sperando che non ci sia una ripresa dei contagi. Nei giorni scorsi intanto è partita la somministrazione del nuovo vaccino Novavax. Per il territorio comasco il riferimento è l'Hub di Via Napoleona. Abbiamo somministrato 230 dosi tra Coma e Baresa, detto Catanoso, non si può prenotare o scegliere direttamente questo vaccino, ma mi sento di fare ancora un appello a chi fino ad ora non si è ancora vaccinato e vorrebbe farlo con il nuovo preparato, perché si presenti nei centri di riferimento. Sicuramente è meglio utilizzare Novavax che non vaccinarsi. Intanto dal 1 marzo, visto l'andamento della campagna vaccinale, la SST Lariana ha previsto un'ulteriore riorganizzazione dell'attività degli Hub vaccinali. A Como, in Via Napoleona, venerdì 4 marzo, apertura dell'Hub dalle 14 alle 20, sabato 5 e domenica 6 marzo dalle 8 alle 14. La settimana successiva l'Hub sarà aperto lunedì 7 marzo, venerdì 11 e sabato 12 marzo dalle 14 alle 20, domenica dalle ore 8 alle 14. La riofiere di Erba resterà aperta nella giornata di domani dalle 14 alle 20, sabato 5 marzo dalle 8 alle 14, la settimana successiva dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Infine all'ospedale di Menaggio le vaccinazioni vengono effettuate nella giornata del mercoledì dalle 10 alle 12. Grazie a tutti.